È noto il suo impagno da tempo all'interno della Fondazione Italia Nostra, che da un cinquantennio si occupa proprio della difesa del patrimonio paesaggistico e monumentale. Secondo lei l'eolico è un problema o è una soluzione? È un problema spinoso. Perché? Perché è un'energia intermittente. Con vento i giganteschi impianti si muovono, le eliche rotano e si produce un po' di energia elettrica. In calma di vento tutto è fermo, non c'è energia, la rete è in attesa di un'energia che non verrà, magari per un'intera giornata o per alcune ore. Quindi è un'energia accessoria, aleatoria, non adatta a un paese poco ventoso come l'Italia. Grazie a tutti.